Belen Rodriguez si allena, ecco i suoi consigli per rimanere in forma Considerata una delle donne più belle ed intriganti della televisione italiana, Belen Rodriguez ha sempre dichiarato di dedicare molto tempo alla cura del corpo. Oltre ad essere stata baciata dalla natura, la Rodriguez non rinuncia ad una dieta equilibrata e ad una routine di bellezza che comprende prima di tutto lattività fisica e una buona dose di idratazione, ecco i suoi consigli per rimanere in forma più a lungo possibile. Belen Rodriguez svela come mantenersi in forma su Instagram. . Oltre ad essere una presentatrice di grande successo, Belen Rodriguez lavora come testimoni alle modelle per numerosi brand nazionali e internazionali che lhanno scelta per la sua bellezza e per il suo grande seguito sui social. . Per questo motivo la showgirl argentina ha rivelato di dedicarsi con grande attenzione alla cura del suo aspetto fisico, seguendo una dieta bilanciata e facendo molto sport. . Quest'estate, durante la sua lunga vacanza ad Ibiza, Belen è stata fotografata mentre si stava dedicando a degli sport acquatici, sfoggiando un bikini davvero irresistibile. . Poche ore fa, sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Rodriguez ha deciso di condividere un altro scatto che la ritraeva mentre era impegnata ad ellenarsi, in tenuta sportiva, per lei un completo super attillato, i capelli raccolti e un leggero make-up. . In mano aveva una bottiglia, Belen infatti ha rivelato ai suoi fan che uno dei suoi segreti di bellezza è proprio l'idratazione. . Bere molti liquidi permette al corpo di idratarsi, portando numerosi benefici alla pelle e assicurandosi di ridurre il più possibile il problema della ritenzione idrica. . In questa foto la showgirl ha presentato una linea di prodotti detox, consigliando ai suoi fan di intraprendere un percorso quotidiano all'insegna del benessere. Belen e la sua missione bellezza. Belen Rodriguez e la sua missione bellezza procede in modo inesorabile, la showgirl argentina infatti non perde occasione per condividere sui social i suoi segreti di stile e benessere. . . Lavorando in televisione e come testimonian, Belen deve sempre presentarsi al massimo della sua forma fisica, mantenersi al top diventa quindi un lavoro di costanza e determinazione. . Allenamento sportivo, dieta sana, idratazione e trattamenti, la routine di Belen è un concentrato esplosivo di salute e cura del corpo, considerato un tempio sacro. . 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